Ed eccoci qua, ciao a tutti e benvenuti sul mio canale a casa di Alfie, grazie a coloro che si sono iscritti e un grande bacio da parte mia a coloro che mi seguono da sempre. Allora oggi andremo a preparare la torta pasqualina, che è una torta che si fa solitamente in questi periodi pasquali. Allora nella mia planetaria ho iniziato a mettere farina, olio, metto sale e poi prendo l'acqua tiepida e faccio impastare il tutto. Lo faccio impastare prima nella planetaria, nel frattempo che si impasti un po' tutto. E poi dopo aver impastato nella planetaria, trasferisco tutto sulla mia schianatoia, dove finirò ad impastare. Poi nell'info box della descrizione, sotto al video, troverete la ricetta completa. Adesso sto mettendo l'acqua piano piano, nel frattempo che si impasti un po' tutto diventi liscio e omogeneo. Da come vi avevo anticipato, ecco la mia schianatoia. Ora andiamo a mettere l'impasto, dove finirò ad impastare. Finito di impastare, trasferisco l'impasto in una terrina, in un salatiera. Con un po' di farina sotto e ricopriamo con un panno umido e lasciamo riposare per un paio d'ore. Ora mi trasferisco in camera da letto, dove ancora non ho fatto le pulizie. Così ho pensato subito che mentre l'impasto riposava, potevo occuparmi della camera. Ed ora riordiniamo prima e poi facciamo il letto. Cominciamo! Cominciamo! Grazie a tutti. 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 Se poi avete difficoltà nel chiudere qualche buchetto potete prendere sempre un po' di impasto che sta fuori e lo mettete sopra al buchino. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. un po' di pepe. e poi dopo esserci. vado a fare dei fosso dentro. di impasto. da come potete fare dei fosso. a tutti. e poi... facendo la faccio. e la faccio. veramente una buonissima. e la faccio. ragazzi. e la faccio. ferragni di ferragni di ferra... Che poi Se avete visto a Chiara Ferragni che ha perturito Ma a me non sembrava proprio che ha perturito Tutta pittata, tutta bella e truccata Mi ricordo quando ho perturito i miei figli Mamma mia, sembrava una morta nel letto Quando mi dovevo mettere la panciera, due persone Mamma mia, non ce la facevo neanche a muovermi Quella stava bella, serena e tranquilla, tutta truccata sul letto Mamma mia Ho detto, beata a lei Che per parturire sta tutta bella pimpante Mamma mia Brava Ragazzi, sto scrub di labbra Subito si asciuga Comunque Io mi ricordo quando partorivo Mamma mia Quando ho perturito i miei figli Ho fatto mariepie col parto naturale Non ne parliamo E poi dopo un anno è nata cristiana Col cesareo Perché i dolori non mi venivano Ho detto, ma com'è possibile? Dopo un anno qua Niente, i dolori zer I dottori non ebbero più che fare Per farmi partorire naturale Mi dovessero fare un cesareo di urgenza In acqua cristiana In acqua cristiana Al giorno dell'onomastico del papà A San Francesco In acqua cristiana Poi con Ida e Pietro ho fatto i cesarei Perché ovviamente da cristiana Ho fatto gli altri cesarei Ragazzi, io mi sciacquo un attimo Mi sciacquo sto scrub Comunque, come qua mi sono sciacquata Adesso metto l'acquale rosa Che i miei figli li ha messi nello spruzzino Mamma mia, mi dicono che non ci potevo credere Di Chiara Ferragni L'ho detto a mio marito Mia mamma Ha detto mia mamma Fonsì, allora si ha accettato le creature Chiara Ferragni Che poi Stessine si ha accettato le creature La femminuccia La femminuccia si ha accettato Ma tu hai avuto senza proprio una sopra Mamma mia, bella, pimpante Mamma mia Pure vicino al mio merito Ma ero in Francia Ma chi era Ferragni Ragazzi, io sono rimasta proprio Hai detto mio merito I soldi che fanno fa Mamma mia Quello aveva già visto con mamma Mamma mia Io mi ricordo che Quando ho partito la riva Mia mamma Ma ti ha mangiato il brodo Ti ha fatto il brodo Se non fai un latte Mi facevano Mi riempivano di brodo Di carne Di pollo Poi un po' che non mangiavo Mia mamma Oh, tu hai mangiai Le succo di creatura Che c'era L'acqua Dice che poi non gli dava la sostanza A me mi facevano fare come la vacca Si manca Si manca poi Ieri secco I figli Più che mi hanno inguagliato Sul lato fisico Dice Ah, vero Non mi voglio lamentare Ragazzi Perché Il proverbio napoletano Allora ragazzi Adesso passiamo ai salutini Allora In questo video Voglio salutare Nenzi Per oggi Che ho fatto il video La skin care È la madonna Oggi è l'annunciazione Quindi La madonna annunziata Quindi Chi festeggia oggi Cioè Nenzi Grazie di aver guardato il mio video Grazie di aver guardato il mio video Grazie che mi seguite sempre Se vi fa piacere Perché è nuovo Iscrivetevi a casa di Alfie Attivate la campanella Così vi usciranno sempre i miei video Siete aggiornati Allora Proverbio napoletano Chi peca si fa O lupi si mangia Al prossimo video Ciao